Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi e ragazzi Benvenuti sul mio canale Oggi vi propongo un video haul Perché ho fatto degli acquisti da OVS E ho preso alcune cosucce Perché sinceramente Ci sono andata per vedere Alcune cose Non le ho trovate come sempre E quindi Mi sono messa lì a guardare E ho notato Dei prodotti messi lì A caso Oltre che Devo dire che L'inciviltà regna sovrana C'erano degli espositori Toccati fino all'osso Dei prodotti Sbocciati Rotti Rovinatissimi C'era Uno schifo totale E sinceramente Ci sono rimasta male Perché Le commesse li giravano Infatti Quando io guardavo le cose La commessa mi ha detto Signora Dice però Dice Non li svocci Le ho detto No veramente Sto cercando quelli intatti Perché sono tutti svocciati Le ho detto Ma come mai Una signora accanto a me Dice dovete stare voi Più attente Cioè La ragazza La commessa Ha anche esordito Con la frase Tipo Dovete stare voi A essere Diciamo più educati Perché era Cioè tutto toccato La signora Poco prima Aveva Fatto cadere un prodotto E l'aveva messo lì dietro Senza farlo notare a nessuno Comunque Una cosa Brutta Che a me sinceramente Non piace Ho acquistato Alcuni prodotti All'OVS Perché Come avete visto Negli altri video Ho utilizzato Dei prodotti Per quanto riguarda Cosmify Io non Non seguo molto Questa linea Di prodotti Perché sinceramente Non mi sono piaciuti Poi ho visto Altri video Di altri personaggi Sempre per quanto riguarda Youtube E mi sono piaciuti Alcune cose Quindi le ho voluti prendere Non al di fuori Della persona Che ha fatto Questo prodotto Mentre ero lì Ho guardato Non le ho sbocciate Ovviamente Ho guardato Alcune cose Mi sono piaciute E le ho prese Allora Per prima cosa Non c'entra niente Con Cosmify Ho preso Questo illuminante Di Quentin Wild Avendo pochissimi illuminanti Che dite Non lo compro un altro E quindi ho preso Questo Che Vediamo Cercherò di aprirvi Sì ci riesco Avendo pochissimi illuminanti Ho deciso Di prenderne altri Cioè Aspettate che Lo apro Perché non l'ho aperto Prima E niente Questa cosa Mi dà Leggermente Fastigio Leggermente Mi dà tanto fastigio Perché C'erano tutti i prodotti Inravenati Tutti 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 Inravenati Allora Questo si chiama Blossom Glove Ed è Un illuminante Molto molto Iridescente E ha una trama Molto particolare Avendo fatto il decluttering Non solo voi Quando vedrete questo video Avendo fatto il decluttering Dovevo assolutamente Prendere un altro illuminante Che è questo Ed è Devo dire che è molto Molto bello È sempre sulla base Del rosato Come piace a me E quindi Ottimo Poi per i prezzi Giù nell'infobox Traverete tutti Vi parlavo di Cosmify Quindi Ho voluto prendere Alcuni prodotti Tra cui Il famosissimo Basic Basic Marble Quindi L'illuminante Di Basic Gaia E io ho preso Ho preso L'highlighter 02 Nike Nike Credo che sia Ed è questo Colore qui Che dà sul rosa Molto molto Bello Vi sboccio Anche questo Ed è Simile A questo qui Di Di Wet n Wild Che ho acquistato Solo questo qui Quello di Wet n Wild È molto più rosa Questo è molto più Dorato Non so se si vede La differenza Sembrano uguali Ma non lo sono Ve lo posso assicurare Però Sono Sono molto Molto simile Quelle di Wet n Wild È leggermente più rosa Di quello Di Basic Gaia Poi Ho preso Un prodotto Sempre di DEMT Io ho preso Aspettate che Ve li faccio vedere Perché ce l'ho qua Uno è questo E l'altro è questo Allora Nelle scorse Nelle volte precedenti Avevo preso Avevo preso questo qui Che è il Bonjour Contour Di DEMT Dove Abbiamo Tre polveri Per quanto riguarda Il contouring Poi Nella volta Dopo Avevo preso Questo Che si chiama Earth Death Che sarebbe Una palettina Di tre Illuminanti Molto molto Bella anche questo E quindi ho deciso Di prendere I blush E quindi ho preso I tre blush Questo si chiama Pink Drink Ed era il trio Che mi piaceva di più Per quanto riguarda Il blush Ed era il trio Che era Diciamo Non sbocciato All'infinito Questa è sempre La solita palettina Come tutte Le altre È identica E poi Abbiamo I tre blush Che sono Uno più bello Dell'altro Perché Oltre che Mi piace tantissimo Il colore Guardate Strofinandolo così Senza Diciamo Pucciare il dito In modo Esagerato E quindi Ho preso Questi Perché Mi piacevano Tantissimo Come Blush E sono Queste tonalità Fredde Che a me Piacciono Poi Non ovviamente Dicetti Ti bastano Questi tre blush No Ho visto questi Che non so Di chi siano Sinceramente E sono K. Lichus C'è scritto Non so Chi è Non mi dite niente Perché Demty Lo conosco Basic Gaia Sì Ma questo Sinceramente Non so Nemmeno Chi sia Se è una ragazza O non ragazzo Mi dispiace Ma non Non conosco E sono Dei blush Ho preso Lo 04 Lilac E lo 02 Lollipop Allora Mi sono piaciuti Quando li ho visti Erano piccolini Quindi Erano Sono piccolini Quindi Sono molto Molto carini Il packaging È così Semplicissimo E L'interno È Questo E devo dire Che Mi piace Come scrivenza Ci siamo Voglio vedere Com'è la stesura Sugli occhi Allora Qui sulla mano Già scrive Pochino Io volevo fare Un make up Con tutti i prodotti Che ho Di Cosmify Ditemi Se Vi può interessare Assomiglia Forse a questo Demty Vediamo No forse Quello di Demty È molto più Più scrivente E poi ho preso Lo 04 Che vi faccio vedere Ovviamente Ed è Lilac Ed è Questo Malva Pazzesco Che È stupendo Io adoro Questi Questo colore Per quanto riguarda Il blush Ed è questo No Questo è L'amore mio Sì 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 Questo è il blush Che io adoro In assoluto Sul mio viso Mi strapiace Tantissimo Già dallo swatch Mi piace Quindi Non vedo l'ora Di utilizzarli Poi Per finire Ho preso Tre rossetti E ho preso E ho preso I tre rossetti Di Eri Chioba Questi qua E sono I vampires Giusto Sì I vampires Gli altri Sinceramente Non mi sono Piaciuti Ho preso Il numero Due Tre E cinque Quindi Te li faccio Vedere Così poi Posso buttare Tutte le scatoline Perché sinceramente Non ce la faccio più I rossetti Pegaging E questo Forse mi conveniva Non fare Il decluttering Dei rossetti Illuminanti Blush Perché ovviamente Togliendone alcune C'era posto E quindi Non ho presi altre Forse è meglio Di non Fare più Il decluttering E questo È il colore Abbastanza smortino Come colore Ma a me piace E ve lo faccio vedere Qua Ed è Un nude Che va sul Marrone Però Ha un po' di Malva all'interno L'odore mi piace Non è forte Starebbe bene Anche con questo Make up Quindi Questo Ottimo Il colore Mi piace Anche se lì Come dire Le colorazioni Nel negozio Sembrano una cosa Poi arrivate a casa Sembrano un'altra Io non li ho sbocciati Perché Parlo di altri prodotti Tipo Quando vado Da Sephora Io acquisto Una cosa Poi arrivate a casa Ha un altro Colore Direttamente Quindi mi dà Fastidio Questo è Lo 03 Lo 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 Questo è Lo 03 Ed è Un pochettino Più scuro Si Questo è Questo è Molto più cremoso Del primo Questo è Leggermente Più scuro Ed è Questo E poi abbiamo Lo 05 Dopodiché Abbiamo finito Lo 05 E questo Colore Molto bello Anche questo Molto Molto Non vedo Non vedo l'ora Di utilizzarli Sulle labbra Non li sto mettendo In questi giorni Perché Facendo caldo Cioè Sto facendo Troppo caldo Alcuni rossetti Sono anche un po' Traumatizzati Quindi sudano E danno un effetto Brutto Sulle labbra Quindi preferisco In questo periodo Mettere l'hipgloss Come ho fatto Per questo Makeup E infatti Se volete sapere Come ho realizzato Questo makeup Poi vi metterò O nelle schede Qui O giù Nell'infobox La realizzazione Per quanto riguarda Questo makeup Che sicuramente Sarà uscito Prima Di questo video Allora Ditemi cosa ne pensate Sia per quanto riguarda Il blush L'illuminante Il rossetto Di Eri Chioba Ditemi cosa ne pensate Se vi piace Farvi Io vi volevo fare Un video Dove utilizziamo Questi prodotti Almeno alcuni Perché ovviamente Non è che posso Mettermi tutti i blush Possibili Immaginabili Sul viso Quindi Da utilizzare Alcuni prodotti Per quanto riguarda Cosmefi Ditemi cosa ne pensate Vi aspetto Giù nei commenti E come vi dico sempre Se vi è piaciuto il mio video Spolliciate E se vi va Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao Ciao